Di Bianca Chiriatti sabato 26 maggio 2018 Giovanni Scialpi ha un nuovo amore Dopo la separazione con il marito, il suo ex manager Roberto Blasi, il cantante finalmente ha trovato un nuovo fidanzato, e ha raccontato tutto al settimanale Spy La separazione è stata burrascosa, ma adesso sembra essere tornato il sereno, Scialpi, come si fa chiamare, ha infatti conosciuto in America Leo, un dirigente bancario di 60 anni che ha alle spalle un matrimonio con una donna I due sono felici, il vero nome di Leo è Ewell, e ha due figlie di 28 e 30 anni, e anche nonno Lui e Scialpi si sono incontrati a Los Angeles, in un bar, e sembra che sia scoccato un vero e proprio colpo di fulmine tra loro Leo è un uomo maturo, è una persona alla quale ho dato fiducia così come l'avevo data, in passato, a Roberto Ma rispetto a lui, Leo mi assomiglia di più tra il cantante e l'ex marito e i rapporti non sono buoni Leo, ad esempio, ha divorziato da sua moglie da 5 anni e ha trovato dei compromessi Lui spera di fare lo stesso con Roberto, senza lasciare strasciche cose irrisolte Per il resto l'accusa di Giovanni è che Roberto l'abbia preso troppo con leggerezza, poteva pensarci due volte prima di dirmi sì Ha ammesso? Vota l'articolo, 4.00 su 5.00 basato su 17 voti, i video del canale Donna Ciao!